Attimi di tensione in pieno centro a Salerno per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione. Il rogo è scoppiato al terzo piano di un appartamento di piazza Mazzini. Sul posto prontamente intervenuti i carabinieri che hanno preso le prime informazioni dalle persone che si hanno riversate in piazza a causa del rogo, apprendendo che all'interno della casa potessero esserci due persone, due anziani. A questo punto i militari, vista la situazione di emergenza e l'imminente pericolo di vita, hanno deciso di intervenire senza attendere l'arrivo dei vigili del fuoco già allertati per trarre in salvo i due coniugi. Arrivati all'ingresso dell'abitazione ormai satura di fumo, i militari dell'arma hanno fatto uscire i due anziani che cercavano in vano di spegnere l'incendio e hanno iniziato a gettare acqua sul rogo domando le fiamme nell'attesa dei caschi rossi che in seguito hanno messo in sicurezza l'aria. Questa è l'ennesima conferma che anche nel difficile momento l'arma non fa mai mancare il suo sostegno in ogni settore. C'è stato un episodio di effettivo allarme per l'incolumità di due anziani coniugi, siamo all'isopera del barcanasta, un incendio. Due dei nostri ragazzi della sezione radio mobile sono prontamente intervenuti e sono riusciti a spegnere immediatamente sul nascere questo focolare di incendio che fra l'altro ha detto agli stessi vigili del fuoco intervenuti successivamente per la messa in sicurezza poteva avere conseguenze ben più gravi senza il nostro intervento poiché è stato necessario anche mettere in sicurezza una condotta del gas. Grazie. Grazie.